buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi video in collaborazione con il gruppo facebook tutti i colori di youtube questo gruppo prima si chiamava the fashionist girls adesso abbiamo cambiato nome il nuovo nome è tutti i colori di youtube tutti i mesi facciamo un video in collaborazione e l'argomento di questo mese è i prodotti makeup del periodo quindi tutti quelli che noi stiamo usando e che ci piacciono in questo periodo è stato veramente difficile per me selezionare solo alcuni prodotti perché in questo periodo ne sto utilizzando tantissimi tra i regali di natale i prodotti dei calendari dell'avvento che mi ero comprata qualcosa che ho comprato io in saldo insomma sto utilizzando veramente tantissimi prodotti ne sto sperimentando diversi quindi selezionarne solo alcuni non è stato facile ma alla fine ce l'ho fatta e parto subito con un illuminante per il viso quindi una base trucco perlescente che sarebbe un illuminante ed è quello che io avevo trovato nel calendario dell'avvento bottega verde vi lascio il video nelle schede se per caso non lo avete visto questo è un illuminante con il quale io mi trovo molto bene il colore spero che voi riusciate a vederlo abbastanza bene è molto chiaro che va bene per la mia pelle perché io ho una pelle molto chiara quindi questo tipo di tonalità mi piace e mi piace l'effetto che fa sul mio viso perché davvero dà più luce e questo effetto un po' perlescente comunque anche a seconda dell'illuminazione che c'è fuori o l'illuminazione artificiale comunque dà alla mia pelle una certa luminosità che comunque mi piace moltissimo quindi questo è il primo prodotto che io metto tra i miei preferiti di questo periodo poi vi faccio vedere alcuni prodotti per gli occhi questa è la base il primer occhi per l'ombretto quindi la base occhi di kiko adesso questo è nuovo perché io l'ho appena ricomprato in realtà ve lo metto nei prodotti del periodo ma è un prodotto che io uso sempre quindi anche in questo periodo fa parte comunque dei miei preferiti perché ha veramente un'ottima tenuta quindi io mi trovo veramente bene con questo primer perché con questo l'ombretto io lo metto sulla palpebra e lì rimane finché io non lo vado a togliere con lo struccante quindi è una cosa che mi piace tantissimo vi faccio vedere tre matite ombretto waterproof tutte e tre di sephora che io sto utilizzando tantissimo in questo periodo sono questi tre colori uno è blu uno è un rosa viola diciamo e l'altro è un verde spero che qualcosa si veda con questa luce comunque il blu è il numero 13 il rosa il numero 38 il verde il numero 25 io vi ho fatto lo swatch di tutti e tre i colori sperando che qualcosa riusciate a vedere perché so di non avere una luce perfetta per il makeup comunque questi sono i tre colori uno è verde uno è blu marino un blu marine e l'altro è un rosa tendente al viola e sono tre colori con i quali io mi sto veramente trovando molto molto bene quindi sono tutti tutti e tre colorazioni davvero molto molto belle restiamo sui prodotti però che vi faccio vedere il mio prodotto top della vita per questo non è solo il top del periodo è veramente il top della vita che è il mascara di l'oreal waterproof vi ho fatto vedere anche in un video dimostrazione diciamo così quanto è davvero resistente all'acqua magari quel video ve lo lascio linkato da qualche parte perché è davvero interessante vedere come resiste bene all'acqua perché è un video in cui faccio proprio una prova su strada diciamo vi faccio proprio vedere come questo mascara a contatto con l'acqua riesca a resistere veramente bene e è questo mascara l'oreal voi vedete la confezione blu ma in realtà è nero quindi insomma questo è veramente un mascara col quale mi trovo benissimo perché davvero resiste a qualsiasi cosa acqua lacrime pioggia tutto quanto veramente è un ottimo prodotto quindi è il mio top della vita voglio farvi vedere sempre restando in tema occhi tre mini palette che io mi sono comprata abbastanza recentemente la prima è di kiko e l'ho comprata in occasione del regalo di natale che mi ha fatto mia cugina contiene quattro ombretti e un blush e mi trovo veramente benissimo sono tutti sui toni del verde io mi trovo veramente molto molto bene con questi colori sono molto belli due sono decisamente più luminosi più brillanti e due sono colori un pochino più matte ma mi trovo veramente bene sto utilizzando anche questo blush che comunque pur essendo così rosato poi alla fine fa un effetto sul mio viso che mi piace quindi insomma promosso poi vi faccio vedere un'altra palette in cui ci sono quattro ombretti e due illuminanti questi sono colori che utilizzo diciamo più come base a parte questo grigio che è un pochino più scuro però gli altri li utilizzo sempre solo come base o al limite per dare un po di sfumatura e di luminosità alla fine del trucco però a me piacevano veramente questi colori perché sono comunque glitterati quindi danno davvero molta luminosità e una palette che sto utilizzando tantissimo perché la utilizzo veramente tutti i giorni è quella che faceva parte della collezione natalizia di essence e io l'ho trovata in mega sconto e guardate che bei colori che ha perché sono veramente belli ci sono tutti i colori che utilizzo a parte il verde che qui non c'è che io lo utilizzo tanto però anche il viola il blu il grigio questi colori comunque un pochino più naturali sono tutti colori che io utilizzo tantissimo quindi questa è veramente bella mi piace tantissimo e mi sto trovando veramente benissimo questa davvero io la utilizzo proprio tutti i giorni quindi mi trovo benissimo un'altra cosa che sto utilizzando tutti i giorni è il blush considerate che io prima non lo usavo mai adesso se non ho il blush sembra che io non mi possa truccare perché mi sono innamorata del blush quindi lo sto utilizzando tantissimo ho comprato una mini palette che contiene tre blush di tre tonalità diverse una decisamente più neutra una un pochino più rosata una molto molto scura che quella che c'è qua in mezzo però ho provato ad utilizzare anche quella devo dire che se ne metto poca sfumata al punto giusto tutto sommato anche sulla mia pelle chiara fa un buon effetto ed ha una buona colorazione quindi insomma anche questa mini palette con questi tre blush la sto veramente utilizzando tantissimo un altro prodotto che sto utilizzando molto molto spesso è il rossetto scusate non il rossetto il balsamo labbra olografico di kiko che faceva parte della collezione di natale è così è chiaro ed ha un effetto perlescente alle labbra intanto a me piace tanto 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 il profumo perché ha veramente un profumo di vaniglia che è stupendo e mi piace il fatto che ammorbidisce tantissimo le labbra ma oltre ad ammorbidire le labbra dà un tono perlescente quindi dà alle labbra quel senso di luminosità e di brillantezza che sopra un rossetto poi stanno veramente bene io devo dire che questo è l'effetto che fa sulle mie labbra però parlando con altre persone che lo utilizzano ho sentito che comunque alcune persone invece non hanno questo effetto però sulle mie labbra dà questo effetto quindi mi piace tantissimo io di solito lo metto sotto al rossetto perché non voglio comunque andarlo a macchiare perché essendo così bianco mi dispiacerebbe comunque andarlo a macchiare poi con il colore del rossetto quindi io lo metto sotto mi fa questo effetto appunto di morbidezza di luminosità a me questo prodotto piace tantissimo quindi lo sto utilizzando poi un prodotto che utilizzo sempre quindi non è solo di questo periodo ma è anche di questo periodo perché è tutti i giorni è la matita nera kajal miss broadway è una semplice matita nera miss broadway io l'ho trovata in vendita alla pam e alla basco come supermercati poi non so dove altro si possa trovare io l'ho sempre presa lì e devo dire che mi trovo bene perché è molto morbida e ha una scrivenza veramente particolare perché scrive subito sull'occhio senza dover fare mille volte la stessa passata e quindi io mi trovo bene inoltre tutte le matite kajal che io utilizzavo prima sparivano dopo pochi secondi proprio secondi non minuti invece questa devo dire che ha una durata considerevole perché io la metto sull'occhio al mattino e dopo due o tre ore comunque ancora abbastanza uniforme poi magari dopo due o tre ore devo un po ripassarla però comunque ha una buona durata quindi mi trovo veramente bene passiamo adesso ai prodotti per le labbra vi faccio vedere prima due matite di kiko e poi scusate tre matite di kiko 2 sono matite rossetto lucida labbra e una una classica matita questa è una classica matita la numero 525 ed è viola è questo colore qua ve lo faccio vedere è questo bel viola acceso spero che qualcosa si veda questo qui è un bel colore acceso mi piace veramente molto e di solito lo metto per fare sia il contorno delle labbra sia una base abbastanza leggera che stia sotto al rossetto quindi la utilizzo in questi due modi poi invece queste sono matite lucida labbra sempre di kiko e sono veramente molto belle questa è la numero 03 e ha questo colore un pochino perlato io spero che voi vediate qualcosa ha questo colore un pochino perlato che è questo io spero che qualcosa si veda con questa luce comunque sulle labbra fa davvero un buon effetto questa invece è la classica matita marrone numero 11 decisamente più più scura diciamo più uniforme meno brillante spero che la vediate questa qua però anche questa veramente mi piace moltissimo sulle mie labbra quindi sono matite che io in questo periodo sto utilizzando tantissimo poi passiamo a tre rossetti due sono sempre di kiko e uno invece è nix vi faccio vedere prima quello nix così poi perché uno di questi due di kiko ce l'ho adesso sulle labbra quindi ve ne volevo parlare un attimo meglio questo è il rossetto matte di nix ed è il numero 07 ed è un rosso mattone un rosso mattone molto molto bello ve lo faccio vedere è questo guardate che bel rosso che è è questo colore qua è veramente un bellissimo rosso mattone io l'ho utilizzato molto spesso in molti dei miei video quindi se voi andate a vedere un video a caso probabilmente mi troverete con questo rossetto perché l'ho utilizzato tantissimo poi ultimamente ho comprato due colori invece da kiko uno è un marrone abbastanza classico diciamo per il colore che uso io e questo marrone vi faccio lo swatch così riuscite magari a vederlo meglio è questo questo marrone qua così e sulle mie labbra mi piace insomma è il mio colore uno di quei colori che per me sono sempre buoni e sempre validi perché io il marrone è un colore che utilizzo tanto lascio per ultimo questo rossetto ah non vi ho detto il numero scusate di quello di kiko è il numero 404 adesso volevo parlarvi un attimo del numero 424 di kiko che è viola è il viola che io porto adesso sulle labbra non so se riuscite a vederlo bene con questa luce spero di sì comunque vi faccio anche lo swatch ve lo faccio vedere questo è un bellissimo viola che mi piace veramente moltissimo questo è il colore vi faccio vedere sia lo stick che lo swatch vedete è un bellissimo colore io non ero tanto propensa ai colori sul viola però ultimamente sia sulle labbra che sugli occhi li sto provando e mi stanno piacendo questo perché volevo parlarvene un attimo intanto vi volevo dire che insomma è un bel rossetto con il quale io mi trovo bene è un colore che comunque mi piace ma in questo momento quello che vedete adesso è la combinazione tra la matita viola che vi ho fatto vedere prima vi ripeto il numero è la 525 e questo rossetto quindi ho combinato la matita viola 425 rossetto 424 di kiko quindi ho fatto questa combinazione ho messo la matita sotto come base poi sopra ho messo questo rossetto e questo è l'effetto finale che ripeto con questa luce non so quanto si veda ma spero che qualcosa vediate e devo dire che io mi trovo veramente bene con tutti questi prodotti ma soprattutto con questi due rossetti che sono diciamo delle new entry perché io non li avevo mai presi i rossetti di kiko comunque se li avevo presi in passato poi in realtà non li avevo utilizzati così tanto da potermene fare un'idea precisa invece adesso li sto utilizzando tutti i giorni e devo dire che sono rossetti con i quali mi trovo bene perché sono molto molto morbidi lasciano sia nella stesura sono morbidi sia sulle labbra quindi lasciano le labbra morbide non seccano almeno questo sulle mie labbra quindi tutti i prodotti che vi ho fatto vedere adesso sono i prodotti makeup del periodo quelli che mi piacciono tantissimo io vi ricordo di andare a vedere anche i video delle altre ragazze che partecipano quindi vi lascio tutto in info box link del gruppo facebook link di tutti gli altri canali quindi come al solito trovate tutto giù io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme